Il sole è in transito nel segno della rete che ha la forza di contrastare le piccole polemiche che possono nascere durante i weekend Sabato e domenica 7 aprile 2019 sono positivi, con la luna nel segno toro può contare su una bella energia Gemelli discute spesso, ed ultimamente nulla sembra andare per il verso giusto. C'è fortuna negli incontri, fare nuove conoscenze potrebbe anche aiutare Cancro a valutare nuovi stimoli e nuove opportunità per essere felici L'oroscopo di oggi segnala che per il leone ci sono buone idee, ma non sempre le risorse sono sufficienti Il mese di aprile si sta rivelando altalenante per le emozioni per i nati vergine Avere un sostegno, una persona sulla quale poter contare in questo momento rappresenta per la bilancia una preziosa risorsa I nati dello scorpione tendono ad avere un atteggiamento piuttosto polemico questo weekend Paolo Fox ha più volte invitato i nati del segno del sagittario a cercare di mantenere una certa costanza negli impegni più proficui Capricorno sta cercando di rilanciare se stesso ma tutto sembra più complicato. Non riuscire a fare tutto in tempi rapidi, rende piuttosto insofferente l'acquario Sabato e domenica 7 aprile 2019 per i pesci sono giornate belle per i sentimenti Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like Sottopra